Oggi l'innovazione è un obiettivo comune, ma in pochi sanno essere all'avanguardia. Strengths, acciaio strutturale alto resistenziale di SSRB, coniuga elevata qualità ed esperienza in grado di offrire nuovi livelli di prestazione. Fassi GRU, leader mondiale nel settore del sollevamento, per affermare l'eccellenza tecnologica della nuova GRU F2150 RAL, si affida alla qualità indiscussa di Strengths. Grazie a Strengths, le GRU Fassi risultano più leggere e resistenti, il che si traduce in una migliore efficienza energetica e maggiore profittabilità.